Bentrovati all'ascolto, questi sono i 5 minuti con la BCC in collaborazione con la nostra banca di riferimento, ovviamente la BCC Felsinia. Io sono Alessia Ricci della redazione e anche in questa settimana parliamo di frodi digitali. Lo facciamo con il responsabile sicurezza informatica di BCC Felsinia, Davide Zucconi, che è qua con noi. Davide, bentrovato. Bentrovato Alessia, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RDM. Abbiamo iniziato la settimana scorsa a parlare di frodi digitali, una puntata ricchissima, ci hai dato un sacco di informazioni, ci hai anche messo in guardia sui vari metodi e le varie casistiche. Però vogliamo, magari qualcuno non ci ha ascoltato, ricordo che volendo la puntata della settimana scorsa si può sempre riascoltare, come tutte le altre, sul nostro sito di Radio Dimensione Musica. Ma volresti un po' ricapitolare quello che ci hai raccontato la settimana scorsa? Certo, assolutamente. Sì, nella scorsa settimana abbiamo visto che purtroppo il tema delle frodi digitali è un tema molto attuale e in costante crescita nel nostro paese. Abbiamo visto che una delle tipologie di frodi più diffusa è quella del phishing, che impatta prevalentemente magari le persone fisiche, i privati e la collettività in genere, che è una forma di frode digitale in cui gli aggressori cercano di ottenere informazioni personali o sensibili, come il nome utente, la password, i dati bancari, il numero di carta di credito della vittima, facendo leva fondamentalmente sulla sua credulità o comunque sulla sua disattenzione nel comunicare questi dati. Questa frode viene principalmente perpetrata tramite tre canali di contatto che ne fanno da padrone, che sono l'SMS, il contatto telefonico diretto del frodatore o la mail. Il frondatore rende particolarmente credibile la comunicazione tramite questo canale di contatto, fingendo che proprio questa comunicazione arrivi dalla propria banca di riferimento e facendo comunque leva su timori della vittima, come per esempio il blocco del proprio conto, comunque l'invio di fondi all'estero o casistiche di questo tipo. Ecco, a questo punto entriamo un po' nel vivo di questa puntata, cerchiamo un po' di proteggerci. Cosa possiamo fare per proteggerci da queste frode digitali? Certo, allora un aspetto fondamentale è la consapevolezza e il fatto di sapere che siamo e dobbiamo operare in questo contesto, quindi in un contesto in cui le frode digitali sono all'ordine del giorno. Quindi si vuole una costante comunque formazione e informazione sul tema delle frode digitali per capire tutti i canali, per sapere tutti i canali da cui possono arrivare. Diciamo che poi ci sono una serie di misure che possono essere messe in atto per prevenire questi frodi e sicuramente la consapevolezza è alla base di tutto. Un aspetto, una regola aurea fondamentalmente è quella che nessun operatore mai, nessun operatore di assistenza o impiegato bancario ci chiederà mai di fornire delle credenziali o dei PIN o dei codici temporanei. Quindi diciamo che appena si presenta questa richiesta magari dalla persona con cui siamo al telefono è necessario immediatamente dubitare e interrompere la comunicazione. Tipicamente poi le comunicazioni che arrivano dalla propria banca o dal proprio sistema di pagamento non contengono mai link magari a pagina o applicazioni esterne in cui venga richiesto l'inserimento di informazioni riservate. Quindi è sempre importante accedere a per esempio l'home banking o comunque alle varie piattaforme direttamente tramite una ricerca in internet o comunque tramite il sito web inserito nei preferiti del proprio browser. E in secondo luogo poi è importante utilizzare sempre software antivirus costantemente aggiornati per evitare di incorrere in malware o comunque altri virus di questo tipo ed è sempre consigliabile utilizzare password complesse e provvedere costantemente a un aggiornamento di queste password. Infine un altro aspetto molto importante è che qualora si riconosca e si prevenga un tentativo di phishing è sempre importante segnalarlo alla propria banca in modo che questa possa attivarsi con le autorità competenti e cercare di eliminare e far chiudere il sito a cui questa comunicazione rimanda e quindi chiudere e impedire al fraudatore di andare a perpetrare questa sua frode nei confronti di altre persone. Cos'è che consigli di fare se si sospetta di essere stati vittima di una frode? Innanzitutto è fondamentale agire prontamente per limitare i più possibili danni quindi il tempismo è un aspetto molto molto importante. Occorre immediatamente sicuramente contattare la propria banca o il servizio di pagamento di riferimento fornendo tutte le informazioni riguardanti l'accaduto e chiedendo di bloccare o sospendere il proprio conto o la propria carta in modo tale che non si verifichino ulteriori transazioni fraudolente. Un altro aspetto importante è che il tempismo consente anche la possibilità che la banca richieda alla banca beneficiaria di eventuali disposizioni partite dal proprio conto corrente di richiedere appunto il richiamo di queste somme e se la comunicazione avviene con particolare tempismo tramite meccanismi di collaborazione interbancaria la banca potrebbe addirittura riuscire a recuperare le somme del caso. E poi diciamo è opportuno sicuramente cambiare le proprie passo delle proprie credenziali perché sicuramente sono state compromesse nell'ambito della frode e in ultimo ma non ultimo diciamo è necessario conservare tutta la documentazione e le comunicazioni relative alla truffa in modo tale da denunciare e fornire tutte le informazioni compiendo diciamo una denuncia alle autorità competenti. E' tutto molto interessante e tutto molto utile nel momento in cui si viene truffati speriamo sempre di non essere di fronte a questa situazione però intanto abbiamo con questa puntata un po' di informazioni utili per sapere come agire e come comportarsi. Ultimissima domanda Davide poi ci salutiamo come BCC Felsinia come vi attivate per contrastare questo fenomeno delle frodi digitali? Sì innanzitutto diciamo la banca è attiva a promuovere e divulgare un po' la collettività l'importanza della consapevolezza dei rischi informatici ai propri clienti ma anche a tutta la collettività e lo facciamo realizzando specifici eventi magari aperti al pubblico come per esempio un evento che abbiamo realizzato proprio quest'anno il 10 gennaio a Castenaso oppure anche tramite proprio speciali anche televisivi che abbiamo realizzato con TRC il 24 gennaio di quest'anno. Poi oltre all'aspetto diciamo della formazione e della divulgazione ci attiviamo anche proprio concretamente con i sistemi di sicurezza e l'operatività che poniamo in essere e in particolare utilizzando tutte le nostre piattaforme informatiche utilizzano la cifratura quindi in modo tale che non sia possibile leggere i dati in transito tra il dispositivo della clientela e i sistemi bancari e un altro aspetto è quello che le eventuali variazioni delle nostre interfacce di login o comunque delle modalità di utilizzo dei nostri sistemi di on banking eccetera vengono sempre segnalati in anticipo alla clientela in modo tale che non si possa rischiare di andare a finire su un sito fasullo e inoltre diciamo tutte le nostre piattaforme di pagamento utilizzano l'autenticazione a due fattori quindi oltre alla password è sempre necessario aggiungere un codice temporaneo in modo tale che se anche la password è compromessa il codice temporaneo consente una seconda linea di difesa alla clientela e inoltre diciamo la banca effettua immediatamente comunicazioni in merito al cliente insomma in merito all'invio di eventuali pagamenti dal proprio conto corrente per informarlo immediatamente in caso di disposizioni inattese e in ultimo diciamo la banca ha tutta una serie di presidi per quanto riguarda l'evento proprio specifico delle frodi e quindi in particolare viene utilizzato dai nostri sistemi un algoritmo che è basato sul machine learning cioè fondamentalmente un algoritmo che impara sulla base dell'operatività quotidiana per bloccare preventivamente le operazioni che vengono ritenute sospette in modo tale da tutelare la clientela inoltre la banca partecipa al sistema di antifrodi interbancario e quindi può interagire con le altre banche per prevenire e cercare di recuperare i fondi della clientela in ultimo la banca provvede a richiedere la rimozione dei siti fraudolenti sulla base delle segnalazioni ricevute dalla clientela sempre relative a situazioni di phishing Davide grazie per essere stato qua con noi oggi per averci infornito tutte queste informazioni molto molto importanti sulle frodi digitali Grazie Alessia e un ringraziamento anche per la collaborazione che sicuramente tutti gli ascoltatori di RADM metteranno d'ora in avanti in atto in riferimento al tema delle frodi digitali Certo, speriamo proprio, davvero Ancora un saluto, buon lavoro, ciao Davide Ciao, ciao Alessia, buon lavoro Era Davide Zucconi, responsabile sicurezza informatica di BCC Felsine Ad Alessia Ricci è tutto, grazie per l'ascolto Buon proseguimento, 5 minuti con la BCC Torna la prossima settimana